Ben trovati al telegiornale di Media24. Il prossimo 12 giugno, oltre alle amministrative, si svolgerà il referendum sulla giustizia, tema caldo sul quale le forze politiche non riescono a trovare la quadra. Tema spinoso e controverso che da Tangentopoli in poi ha accompagnato le vicende italiane in uno scontro titanico tra politica e magistratura che non ha trovato negli ultimi trent'anni un punto di equilibrio. Dal primo referendum sul divorzio che si è celebrato il 12 e 13 maggio del 1974 ad oggi, gli italiani sono stati chiamati ben 17 volte a votare per questioni che il Parlamento non è riuscito a dirimere. Ma a parte temi di fondo come il divorzio e il referendum sull'aborto del 1981 che investivano aspetti etici e morali, le altre materie che sono state oggetto di voto referendario investivano questioni di natura più prettamente politica e dunque non proprio attinenti a quanto previsto dal dettato costituzionale. Già nel 1987 si votò sulla responsabilità civile dei giudici e in quella circostanza l'80% degli italiani votò per il no all'abrogazione delle norme che ne limitavano la responsabilità. Nel 1997 venne indetto un referendum per l'abolizione del sistema delle carriere dei magistrati e per l'abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori della loro attività giudiziaria, ma non si raggiunse il quorum per dare validità al referendum. E ancora nel 2000 venne promosso un referendum sempre per l'abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi extra giudiziali, per la separazione della carriera di pubblico ministero da quella di giudice e per l'abolizione del voto di lista per l'elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura e anche in questo caso non si raggiunse il quorum necessario. Ora si torna sull'argomento con un referendum con il quale si chiede la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, la separazione delle carriere, l'equa valutazione dei magistrati, i limiti della custodia cautelare e l'aborgazione della legge Severino. Siamo insomma tornati al punto di partenza in un circolo vizioso da cui la politica non riesce a uscirne. Il ricorso alla materia referendaria evidenzia in tutta la sua plasticità la crisi della politica. noi eleggiamo i nostri rappresentanti in Parlamento perché facciano il loro mestiere che è quello di legge ferare. Quando su questioni che non attengono all'etica pubblica o alla morale ma alla politica si chiede ai cittadini di sostituirsi al Parlamento, il fallimento delle nostre istituzioni rappresentative si manifesta in tutta la sua gravità e forse anche per queste ragioni la faglia che separa i cittadini dalle istituzioni si sta allargando sempre di più con tutti i rischi che possono derivare per la nostra democrazia. Dopo due anni di chiusure e restrizioni la stagione turistica estiva 2022 parte senza particolari condizionamenti legati alla pandemia ed infatti lungo le spiagge dell'Alto Adriatico le previsioni sul movimento turistico sono buone. La fondazione Tintanka Nord-Est ha analizzato i dati degli ultimi anni per valutare in particolare il comportamento del mercato domestico. Nel 2021 le presenze turistiche italiane sulle spiagge dell'Alto Adriatico hanno superato il livello del 2019. In totale sono stati 7 milioni e 300 mila pari al 10,4% in più. Si tratta di un dato da non sottovalutare che ha permesso di ridimensionare la perdita dovuta alla diminuzione di presenze straniere. Nel 2021 ancora inferiori del 24% rispetto al 2019. Nel 2020 sulla litorale Veneto gli italiani avevano addirittura totalizzato più per notamenti degli stranieri per la prima volta dopo decenni. Ho accolto con grande soddisfazione le parole del sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa a favore di un maggior coinvolgimento dei cacciatori nel controllo dei cinghiali. Lo diciamo da anni e ora anche il governo Draghi appare prossimo a questa svolta all'insegno della concretezza per tutelare allevamenti e settore agricolo. lo afferma la consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia Mara Piccin. I tempi sono maturi, osserva l'esponente politica per estendere le possibilità di intervento dei cacciatori anche al di là della gestione emergenziale o limitatamente ai territori dove già è diffusa la peste suina. E sempre sull'argomento la Commissione europea attui subito misure straordinarie per sostenere le aziende italiane colpite dalla peste suina. E quanto chiedono gli eurodeputati della Lega Rosanna Conte e Marco Dreosto in una interrogazione urgente inviata a Bruxelles sottoscritta da altri colleghi di partito. L'aggravarsi dell'epidemia di peste suina africana sta mettendo in ginocchio l'economia di interi territori a causa del blocco dell'importazione da parte di alcuni Stati per i prodotti provenienti dall'Italia. Si legge in questa interrogazione oltre all'export extra Unione Europea, già oggi ridotto di circa 20 milioni di Euro al mese, anche l'export verso l'Unione Europea sta risentendo della stessa situazione. Centinaia di aziende del comparto sui Nicolo che nel nostro Paese dà lavoro a circa 50 mila dipendenti rischiano di chiudere mettendo a rischio migliaia di famiglie. E l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pordenone, Andrea Cabibbo, ha ufficialmente consegnato al Presidente del Tribunale di Pordenone, Dottor Lanfranco Maria Tenaglia, lo stabile ristrutturato che andrà ad ospitare gli uffici del Giudice di Pace in via Riviera del Pordenone. Vediamo a questo proposito il servizio. Un altro edificio pubblico è stato restaurato. Oggi il Comune di Pordenone consegna la nuova sede del Giudice di Pace al Tribunale di Pordenone. È un intervento importante che è stato portato a termine e che permette di poter avere una struttura nuova ed efficiente a servizio della nostra città e di tutta l'utenza. So perché essendo anche avvocato ed avendo passato molti anni all'interno di questo edificio quanto c'era bisogno di una ristrutturazione per mettere a norma l'edificio ma anche per poter utilizzare spazi più comodi sia per i giudici di pace che per le cancellerie che per l'utenza e per gli avvocati. Quindi un importante risultato di cui siamo contenti. Nelle parole del Presidente del Tribunale, Lanfranco Maria Tenaglia, la soddisfazione per l'acquisizione dello stabile. Oggi è un momento importante, riceviamo in consegna dall'amministrazione comunale questo immobile che sarà un elemento di ammodernamento della giurisdizione e del servizio giustizia nella provincia di Pordenone. Per questo devo ringraziare l'amministrazione comunale che è stata sensibile alle richieste fatte già dal mio insediamento di ristrutturare l'immobile originario. La ristrutturazione è stata fatta velocemente ed è molto funzionale. Questo dovrebbe consentire di trasferire tutti gli uffici del giudice di pace e alcuni uffici del Tribunale. Quindi una nuova struttura che è moderna, efficiente e speriamo che possa essere a disposizione dell'utenza molto presto perché ci sono degli adempimenti burocratici da fare col Ministero in modo da arrivare rapidamente a cominciare a lavorare in questo stabile. Dello storico edificio è stato conservato l'originale aspetto architettonico e dal punto di vista strutturale, grazie a sistemi innovativi, sono state rinforzate le pareti, i solai e le coperture, adeguandoli rigidamente alle norme antisismiche. Ed ovviamente sono state realizzate le opere per il superamento delle barriere architettoniche. L'alta tecnologia utilizzata per gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento e per il fotovoltaico elevano la qualità del risparmio energetico. Le sobre tinteggiature interne e esterne conferiscono allo stabile un'immagine moderna. L'Assemblea dei Socii di ASVO SPA ha riconfermato all'unanimità come Presidente Luca Michelutto. La stessa Assemblea ha confermato come consigliera di amministrazione la dottoressa Giuliana Davilla ed eletto come nuovo consigliere di amministrazione l'architetto Alberto De Gezen. Il Presidente, Luca Michelutto, ha ringraziato i soci di ASVO per la rinnovata fiducia. Quest'ultimo mandato, affermato, è stato caratterizzato da un'oggettiva difficoltà operativa dovuta alla gestione dell'emergenza Covid, ma la capacità e l'organizzazione dimostrata da tutti i nostri dipendenti sono state indispensabili per garantire tutti i nostri servizi fondamentali. L'Assemblea ha anche approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2021 che chiude con un utile al netto delle imposte di circa 200 mila euro. Il continuo aggiornamento tecnologico e culturale della Otorino-Laringoiatria dell'URS numero 4 del Veneto orientale continua ad avere riconoscimenti e risonanza. Dal 25 al 29 maggio di quest'anno alla nuvola di Fuxas a Roma si terrà il 108esimo congresso della Società Italiana di Otorino-Laringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale. Si tratta del maggiore evento nazionale e fra i più importanti a livello internazionale di incontro e di confronto su tutte le sfaccettature della specialità di orecchio, naso e gola. Il direttore dell'Otorino-Laringoiatria dell'URS 4, dottor Alessandro Abramo, è stato invitato a tenere un corso relativo all'utilizzo del laser a CO2 nella chirurgia delle lesioni delle corde vocali, apparecchiatura d'elevata tecnologia in uso da circa un anno nel reparto dell'azienda sanitaria ed entrata immediatamente nella routine degli interventi sia per lesioni benigne che per tumori faringo-laringei. E al via in questi giorni la campagna Dai spegnila, promossa dall'amministrazione comunale di Ponte di Piave in collaborazione con la Lilt, associazione provinciale di Treviso, in occasione della giornata mondiale senza tabacco. La giornata mondiale senza tabacco, ha dichiarato il sindaco Paola Roma, ha il preciso obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto i fumatori, sui danni alla salute provocati dal fumo. Ponte di Piave, aderente alla rete Città Sane, da sempre pone la salute dei cittadini al primo posto, promuovendo stili di vita sani con un occhio di riguardo soprattutto alle fasce più giovani della popolazione. In questi giorni a Ponte di Piave sono state posizionate delle sigarette spezzate proprio per sensibilizzare la popolazione sugli effetti nocivi per la salute dall'uso del tabacco. E anche per la stagione 2022 il Canoa Club Naonis, in collaborazione con il Comune di Pordenone, mette a disposizione tecnici e canoe per scoprire e riscoprire il noncello nella sua modalità più green e divertente, pagaiando in compagnia. Discese tra la biodiversità, dove la flora e la fauna sono rimaste intatte ed esterne allo sviluppo urbano. Appuntamento all'Ibarcadero Marcolin, dove gli esperti della disciplina, prima di affrontare la discesa, illustreranno le modalità di conduzione delle canoe e il loro comportamento in navigazione. Dopo la preparazione si affronterà la discesa del fiume fino all'attracco alla vecchia dogana a Valnoncello. Il ritorno all'Ibarcadero di partenza sarà garantito da un furgone. Nel complesso tra preparazione, navigazione e ritorno l'esperienza durerà circa due ore. L'appuntamento nelle giornate dal 21 al 28 maggio e dal 18 giugno al 9 luglio. E' conferenza stampa di presentazione delle fasi di qualificazioni e delle finali nazionali per le categorie Under 15 maschili e femminili della Federazione Italiana Pallacanestro. Il nostro servizio. In municipio è stato presentato il calendario delle qualificazioni e delle fasi finali dei campionati nazionali basket Under 15 maschili e femminili. Giovanni Adami, presidente regionale del FIP Federazione Italiana Pallacanestro, illustra l'evento sportivo e gli aspetti innovativi della formula della competizione. Progetto sicuramente innovativo, maschi e femminili assieme non c'è mai stato, 16 squadre maschili, 16 femminili e soprattutto sparpagliate in tutti i capologhi di provincia. Per la prima fase, 5 giorni si giocherà Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste, poi le finali e le semifinali solo qui a Pordenone al Forum. Quadruplicazione della forza lavoro necessaria, delle risorse, dei volontari, ma siamo pronti. Abbiamo creduto fortemente nell'assegnazione di questa finale con questa formula. È la prima finale del post-Covid e quindi credo che ce lo meritiamo veramente di ripartire, di ospitare questa prima finale nazionale con questa prima formula e sarà una grande festa. Per l'assessore allo sport Walter De Bortoli, ospitare le fasi finali del torneo mette in evidenza la qualità degli impianti sportivi di Pordenone. È stata veramente una proposta accolta dal comune di Pordenone, ma non solo dal nostro comune, perché come sappiamo è un momento di straordinarietà, perché? Perché dopo il Covid, la prima finale italiana che facciamo in Italia, di questa bellissima specialità che è il basket, quattro squadre femminili e quattro squadri maschili, il 4 di giugno si contenderanno il titolo italiano di Under 15 a Pordenone, sulle nostre strutture che questa amministrazione ha sempre avuto con grande attenzione, non soltanto su queste, ma su tutte le strutture sportive di Pordenone. Dunque abbiamo strutture eccezionali, eccellenti, ben gestite e anche sanificate con il contributo che la Regione ha voluto dare al CONI che poi ci ha passato. Anche l'indotto economico turistico beneficia di questo evento. Lo chiarisce Gian Piero Zanolin, presidente dell'Associazione Federalberghi e al vertice della FIP. Futuro insieme a pallacanestro Pordenone. Quest'occasione delle finali nazionali sportive sono state anche promosse anche per generare un indotto che va su tutto il territorio regionale e su tutti i quattro i capoluoghi perché ricordando che queste sono le prime finali a livello di età comportano oltre alle 32 squadre con una media di 15 persone e tutti gli accompagnatori, i genitori, i parenti che creeranno poi dopo un'occupazione buona sul nostro territorio. Luciano Favaro, qui è una serata a Concordia Sagittaria per la presentazione della Brondua. Sì, abbiamo realizzato anche questa serata perché ormai è diventata tradizione. Abbiamo voluto istituzionalizzare quella che era un tempo, una tradizione che si consumava all'interno del focolare domestico però nessuno lo sapeva. Ai tempi di Venezia questa invece era la vera festa, la festa più importante della Repubblica Serenissima e la festa della Senza. Noi in questa occasione l'abbiamo abbinata come da secoli a un prodotto che è il prodotto unico che fa il maiale quindi la Brondua che qui si chiama così ma in altre zone della Repubblica Serenissima porta altri nomi nel vicino Friuli conosciuto come Lingual ed è l'unico prodotto che si ottiene dal maiale, è un gioiello del maiale diciamo. Ecco, voi durante l'anno di questo tipo di prodotto fate manifestazioni particolari? Sì, la manifestazione principe è questa che si fa la prossima settimana quindi nel periodo dell'ascensione, la festa dell'assenza proprio l'abbiamo creata per questo periodo. Ci sono iniziative che abbiamo fatto l'anno scorso e che continuiamo a fare con le scuole quest'anno una bellissima in cui diamo un kit ai bambini delle scuole dove dentro c'è del materiale e loro si devono costruire la loro Brondua poi domenica i più bravi verranno in piazza, vedranno i macellai che la fanno sul posto e proveranno anche loro a farla. Sempre con piacere che partecipo proprio in questi tempi e queste manifestazioni perché di fatto dimostrano che c'è anche una ripresa, una voglia di socialità, una voglia di stare insieme e una voglia anche di ricordare quelle che sono le nostre tradizioni concordiesi. La Brondua è una di queste, è una tradizione che abbiamo a Concordia che è un insaccato che è simile all'inguale che però ha delle caratteristiche particolari che sono specifiche appunto per il prodotto concordiese. È una cosa che viene portata avanti questa iniziativa dalla Proloco che sta in qualche maniera promuovendo questo prodotto e anche portando avanti una tradizione concordiese importante. Siamo con chi ha deliziato il palato con un buon vino, siamo con il signor... Busellato Simone. Ecco, che caratteristiche ha questo vino che lei ha presentato questa sera in una manifestazione di un prodotto particolare? Allora, sinceramente i vini sono quattro per la serata e ho pensato appunto con gli antipasti che sono degli antipasti abbastanza saporiti ho pensato ad una spumatizzazione di pinot grigio e glera e poi abbiamo cambiato già con la seconda pietanza, abbiamo già pensato ad un traminer. Il piatto veramente della serata che è la Brondua e abbiamo abbinato un vino rosso, un gran bel vino, un refosco che fa la sua vita in acciaio per poi concludere quattro mesi in botte di rovere. Alla fine con la pasticceria e quindi anche con la focaccia abbiamo pensato ad un verduzzo passito da 13 gradi. Un bel vino importante anche questo. E come oggi, il 24 maggio del 1915, l'Italia entrò in guerra a fianco di Francia, Inghilterra e Russia contro gli imperi centrali di Prussia e Austro in gueria. Dal forte Verena sull'altopiano di Asiago partì un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. L'Italia iniziò così le operazioni militari della Prima Guerra Mondiale. E' un giorno che è rimasto nella memoria storica del paese. Quel 24 maggio di cento anni fa forse il piave mormorava davvero calmo e placido come dice la celebre canzone degli Ampini ma ad attendere i fanti italiani e con loro tutto il paese ci sarebbero stati anni durissimi di sofferenze e di privazioni. Più di tre anni dopo arrivò la vittoria ma sicuramente conseguita a caro prezzo. La maggioranza nel paese era contraria alla guerra ma i favorevoli all'entrata nel conflitto dell'Italia riuscirono a mobilitare le piazze e a creare un clima favorevole all'intervento. In gran segreto il 26 aprile di quell'anno l'Italia firmò il trattato di Londra in base al quale in caso di vittoria l'Italia avrebbe ottenuto il Trentino e il Sud Tirolo fino al Brennero, la Venezia Giulia, l'Istria tranne la città di Fiume e la Dalmazia. Iniziò una logorante guerra di trincea, feroce e disumana, su un fronte lunghissimo che andava dalla Svizzera fino al mare Adriatico. Entro la fine del 1915 si contarono già oltre 250.000 tramorti e feriti nell'esercito italiano, una vera carneficina che falcidiò intere generazioni. Al termine del conflitto l'impero austro-ungarico si disgregò, la Germania subì sanzioni pesantissime, l'Italia ottenne quanto promesso anche se la mancata cessione di Fiume fece parlare di vittoria mutilata. Ma quei fanti che il 24 maggio attraversarono il Piave tornarono a casa trovando un mondo diverso e molti di essi non ebbero mai la fortuna di rivederlo. E con questo ultimo ricordo storico io come sempre vi ringrazio cari amici di Media24 e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.